Svante il piedetto ancora preciso per Sbertoli, ancora per Matej Kaczynski, in tutto, crea l'emici, arriva Federici in bagger rovesciato. Poi non ha vita facile Beretta che è costretto a mettere di là questa palla, ma poi che cosa non fa Beretta? Il muro su Marco Podrasian, davvero da incorniciare. Un altro muro di Grozer in questo caso, grande momento a muro per Monterra, addirittura mette la freccia e sorbasso.